buona vigilia di natale a tutti voi tifosi viola ovviamente in un clima natalizio viola tanti auguri anche di buon natale da mister viola o andrea marino qual dir si voglia spero veramente che possiate passare questo natale in famiglia con i vostri amici più cari vostri parenti più cari alle persone che volete bene e di poterle raggiungere se durante l'anno per motivi lavorativi o di studio o per quello che è ne state lontane quindi ve lo auguro veramente tanto auguri di buon natale veramente tantissimo fatemi fare tanti auguri di buon natale anche agli amici di space viola vi lascio qua sotto il link in descrizione questa collaborazione che ho iniziato da pochissimo insomma una bellissima pagina sui social a tinte viola ovviamente fatemi fare anche un abbraccio forte alla famiglia di sinisa mianovic alla famiglia di sconcerti due figure che comunque hanno fatto parte del mondo della ferentina anche se non lo avessero fatto il pensiero va comunque a loro e ovviamente un grande in bocca al lupo a Gianluca Vialli per quello che sta affrontando nuovamente la sua battaglia ovviamente è di che ha fatto anche Gaetano Castrovilli quindi passiamo alla parte gioiosa divertente di questo video ovviamente nel clima natalizio parleremo del mercato della ferentina delle notizie belle in casa ferentina e una di queste è Gaetano Castrovilli che è tornato a giocare il nostro numero 10 è ritornato in campo nell'amichevole con Lugano e ha anche segnato un bellissimo gol in pallonetto e approfitto di questo perché adesso chi gli fa spazio? e qui entriamo nel clima calciomercato viola di fine anno perché Castrovilli ritornerà al centrocampo della ferentina ritornerà quindi piano piano sempre di più dentro l'organigramma viola ma qualcuno deve fargli spazio uno su tutti l'inizio del Zurkowski che ha avuto poco spazio in questa amichevole la trattativa con l'Empoli si è un po' fermata un po' arenata per le richieste della ferentina perché sull'opzione di Parisi l'Empoli non ne vuole parlare però Zurkowski piace anche al Bologna e piace anche alla Sampdoria dove dentro sia Bologna che alla Sampdoria a Bologna piaceva molto per esempio Orsolini che comunque la ferentina sta cercando un altro esterno d'attacco piaceva anche ovviamente Arnautovic ma non partirà a gennaio quindi se devo pensare a un giocatore che esce e non andrà all'Empoli come Zurkowski penso alla Sampdoria dove c'è un giocatore che interessa la ferentina che è Sabiri una situazione raddoppiata praticamente quella di Sabiri 15 milioni di euro la richiesta della Sampdoria la ferentina si è fermata a 10 vediamo se c'è i margini per arrivare a questo calciatore che ha dato il via libera ovviamente alla trattativa con la ferentina anche grazie al rapporto nel Marocco con Amarabat ovviamente il mondiale ha fatto salire l'evitare il prezzo di questo calciatore come per esempio ha fatto salire anche il prezzo di Onani ma anche di Amarabat ma ne parleremo dopo di Amarabat per quanto invece riguarda l'uscita della ferentina una notizia di questi giorni ovviamente è venuti ma prima di venuti voglio parlare di Malè perché Malè si è provato a metterlo su un altro ruolo durante questi amichevoli perché da trequartista si è detto puramente mezzala ha avuto qualche difficoltà a Malè però comunque si è calato in questo ruolo quindi secondo me sarà un po' la scelta tra Malè e Zurkowski credo la ferentina punterà molto a trattenere Malè e a far partire Zurkowski anche se dovesse arrivare Saviri Malè sicuramente è un altro di quelli che uscirà probabilmente in prestito perché comunque sono due profili che la ferentina non vorrebbe perdere a titolo definitivo quindi magari anche in prestito o magari una cessione ma con un contro riscatto prefissato dopo un diritto che può essere esercitato dalla squadra ovviamente che va ad acquistare il cartellino del calciatore un altro invece che esce ovviamente è Benassi Benassi si è messo molto in mostra il goleador di questi amichevoli cosa che non ha fatto né Jovic né Cabral quindi vi lancio anche una piccola curiosità ma dato che avvenuti notizie degli ultimi giorni, delle ultime ore non verrà rinnovato il contratto di scadenza del fine 2023 per quanto riguarda la stagione calcistica quindi già avvenuti a gennaio può firmare con un'altra squadra si cerca una sistemazione forse dal calciatore o lo si tratterrà fino alla fine non lo so si parla di Niccolò Ceccarelli come vice Dodò per quanto riguarda il terzino destro ma tanto che Benassi ha dimostrato molta professionalità ma se invece di darlo via si tenesse Benassi come jolly pseudo terzino destro e l'ha già fatto probabilmente lo farebbe anche meglio di Lollo e non si impazzisse a cercare un terzino destro punto interrogativo perché? perché Benassi è vero che è stato messo in vetrina è vero che Prade ha detto è un giocatore che lascerà la Fiorentina però le ultime apparizioni mi danno un Benassi e comunque il suo lo fa anzi mi sembra che lo faccia anche abbastanza bene per quanto riguarda Lollo fatemi dire due cose mi dispiace per il ragazzo però non mi dispiace per il calciatore nel senso la Fiorentina ha delle ambizioni dobbiamo anche un po' scollarci questa cosa del Mattifa Viola perché noi siamo molto così siamo molto passionali e carnali sono d'accordo è la cosa bella di noi tifosi della Fiorentina però bisogna pensare anche alla crescita della società Venuti in questo momento non ti fa fare il salto di qualità in questa rosa è un giocatore che ha fatto molti errori a volte per sfortuna però non è un giocatore che fa fare il salto di qualità la Fiorentina sta cominciando a decidere quelli che sono i profili su cui puntare su quelli invece che non bisogna puntare a costo anche di perderli a zero un altro di questi per esempio è anche Ranieri che ha giocato molto però anche Ranieri non mi dà sicurezze quindi secondo me Venuti e Ranieri due giocatori che fanno parte di Vivaio e Viola sono due giocatori in procinto di partire a titolo definitivo a Ranieri per quanto riguarda Ranieri piace sempre la sala allenitana per quanto riguarda Venuti non conosco squadre in questo momento interessate al terzino destro praticamente ex Viola se vogliamo però mi dispiace per il ragazzo però per il calciatore ha dei limiti quindi dobbiamo anche valutare quello che è l'apporto di qualità che si fa in mezzo al campo insomma che si fa in campo con la maniera Fiorentina per quanto non la possa tifare quindi mi dispiace per Lolo però credo che sia stata una scelta più che giusta da parte della società della Fiorentina due giocatori un giocatore in particolarità perché Amattucci si è messo molto in mostra ma uno di questi è Bianco Bianco potrebbe essere un giocatore invece da tenere in prima squadra e da collegare soprattutto alle liste per la UEFA perché comunque devi avere un calciatore cresciuto nel tuo Vivaio che abbia fatto almeno 4 anni e quant'altro Bianco si è dimostrato un grande centrocampista anche con grande personalità quindi Bianco secondo me è un piccolo futuro nella Fiorentina che spero che possa sempre di più crescere quindi liberare lo slot a Castrovilli è la parte principale di questo lavoro della Fiorentina però allo stesso tempo è anche risolvere là davanti un problema del gol perché il problema del gol c'è Jovic e Cabral non hanno minimamente buttato la palla dentro in queste sette amichevole dove ci sono state fatte 27 reti con 15 marcatori diversi con la Dol Benassi l'ultima amichevole abbiamo visto Jovic che va a fare praticamente la seconda punta e Kwame che va a fare la prima punta quindi un messaggio secondo me l'Italia non l'ha dato anche la società Cabral non è pronto Cabral credo che sia veramente in procinto di lasciare la Fiorentina nonostante le dichiarazioni nel post Arezzo che Cabral e Jovic ci puntiamo che dalla Fiorentina stia lavorando a cercare un attaccante ora gli infortuni di Sottille e Gonzales non ci permettono di fare delle previsioni a breve termine ma a lungo termine due giocatori che magari rientreranno a pieno regime a fine febbraio quindi comunque la Fiorentina avrà a gennaio e febbraio due mesi molto importanti per quanto riguarda la Fiorentina per il proseguire in Europa per la Coppa Italia per il riprendersi il cammino in campionato avrà bisogno di un esterno alcuni sono nomi già che circolano per Eira per esempio lo togliamo e lo depegniamo perché ha detto che non lascerà l'Udinese a meno per un top club e a titolo definitivo quindi o rinnova con l'Udinese o va in un top club la Fiorentina non è un top club ha detto anche del GT del Marocco e a quanto pare anche dell'entourage del calciatore di Ambravat ma ne parliamo dopo un altro che interessava molto era Bogat però anche Bogat ha fatto sapere che preferisce la soluzione estera l'Atalanta vorrebbe farlo partire a titolo definitivo e rincassare i soldi spesi i 18 milioni versati per il Sassuolo qualche anno fa Bogat si è un po' perso la Fiorentina ci puntava tanto anche per rivalutare il calciatore e faceva questo discorso con l'Atalanta in prestito con un diritto di riscatto e vediamo di farlo risalire eventualmente con un contro riscatto però l'Atalanta sembra preferire la soluzione definitiva e Leicester e Marsiglia sono due squadre molto interessate al calciatore e il calciatore non ha disdegnato né la Premier League né la Ligue 1 quindi anche su Bogat credo che ci si possa mettere una pietra sopra altri profili interessanti per quanto riguarda l'esterno sono ovviamente da ricongiungere a un giocatore che si chiama Carlson giocatore svedese che è molto cresciuto nell'ultimo periodo non è molto conosciuto mi auguro che se venisse alla Fiorentina possa ricalcare il periodo serie Lockman Atalanta Carlson Fiorentina sarebbe molto bello però anche qui c'è una valutazione abbastanza alta del calciatore altro calciatore che interessa alla Fiorentina questa volta è un attaccante Salani attaccante ungherese in forza al Friburgo molto maturato nell'ultimo periodo tra l'altro c'è stato proprio il sondaggio del Napoli si richiedono 20 milioni di euro quindi la Fiorentina sta alla finestra sta lì guarda ma non credo che affonderà il colpo su questo calciatore dove c'è comunque forte il Napoli l'altro calciatore e rimaniamo in Italia Sponda Roma è Schumorodov in uscita dalla Roma perché non trova spazio è un attaccante non ha fatto bene a Roma era arrivato con altre idee sull'attaccante c'è anche il Torino quindi Fiorentina e Torino alla finestra perché c'è un mezzo discorso già aperto con il Sassuolo per Frattesi quindi anche qua si starà a vedere altro calciatore che però non credo che vada preso in considerazione è Belotti ho letto qualche cosina ma non credo che Belotti lascerà la Roma per venire a Firenze in prestito questo non lo credo un giocatore invece parlando dell'esterno che interessa molto la Fiorentina e sembra che la Fiorentina sia molto forte su questo calciatore è Brecalo ex Torino in forza al Wolfsburg non ha trovato spazio non ha trovato neanche diciamo il giusto andazzo ha deluso vorrebbe rientrare in Italia c'è la possibilità di rientrare in Italia valutazione non altissima del cartellino si parla comunque di un presto oneroso a 2-3 milioni per poi riparlare a fine stagione e capire cosa fare con Brecalo ha già dato il via ok per quanto riguarda la Fiorentina quindi insomma ci sono tanti nomi che girano intorno al mondo Viola uno su tutti ovviamente è cosa fare con Amrabat e qui chiudiamo il calcio mercato Viola allora Amrabat è un giocatore che in questo momento c'è una grande squadra che lo vuole è il Liverpool e il Liverpool ha già fatto per venire delle offerte ufficiali l'ultima di 30 milioni rispedita ammittente la Fiorentina vuole prima parlare con il calciatore vedere se riesce a rinnovare il contratto fino a 2025 con ingaggio praticamente raddoppiato a 3 milioni di euro stile Milenkovic però Klopp si è innamorato di questo calciatore vi dico una cosa la Fiorentina non farà partire nessuno a parametro zero non perderà nessuno a parametro zero perché l'economia sorregge le società di calcio lo vediamo adesso con il casino che c'è con l'Otito il decreto salva calcio insomma tutte queste cose che la Fiorentina ha sempre battuta vorrebbe che tutta la società pagassero puntuali le cose sembra invece vincerà l'Otito con la realizzazione a 60 rate con una una multa del 3% da pagare una maggiorazione del 3% invece la Fiorentina avrebbe voluto che tutte le squadre si dovessero riallineare entro fine stagione invece sembra vincerà l'Otito però per esempio anche il caso scoppiato in casa Juventus le plus valenze questi modi di fare soldi di far girare l'economia un po' sbagliata un po' malzana nel calcio sta facendo scoppiare una grande bolla tante sono le società interessate la Fiorentina quindi fa capire e la scelta è giusta che il calcio è economia ok? è moneta ragazzi che ci piaccia o no è economia quindi nessun calciatore lascerà la Fiorentina se si può incassare si incassa questa è la realtà dei fatti quindi su Amarabat sarà più che altro il calciatore a scegliere se rinnovare e restare oppure dire ragazzi io voglio andare a giocare la Champions e quindi d'accordo lo accettiamo però parti per una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro perché io ci devo guadagnare questo è quanto parlando poi e chiudendo per quanto riguarda la lettera di Rocco Comisso e le precisazioni del sindaco Nardella su Rocco Comisso è molto contento di come la Fiorentina si è ripresa fa tanti auguri a tutti noi ci renderà ovviamente partecipi felici del suo ritorno in Italia nel 2023 il Viola Park ci sarà partirà salvo imprevisti avremo il nostro centro sportivo più bello d'Italia più grande d'Europa e questa è una cosa importante bisogna essere onesti più di 100 milioni investiti ragazzi ci sa casa la Fiorentina avrà una casa e io questo è un bel regalo che ci fa Rocco Comisso per la Fiorentina e la Fiorentina ha i day di Fiorentini va bene quindi è un regalo che ci fa indirettamente anche a noi dove possiamo andare a ammirare la Fiorentina una casa a tinte viola e ovviamente è contento di tutte le squadre per quanto riguarda la Fiorentina ovviamente ha parlato delle difficoltà inizio stagione una nuova una nuova diciamo era per quanto riguarda la Fiorentina di Rocco Comisso con l'Europa con tutti i impegni uno dietro l'altro ha capito anche che forse c'è bisogno di una squadra più strutturata però insomma una bella lettera che ci ha fatto molto piacere chiudo parlando invece dello stadio in cui ci sono tante notizie non ci sono i soldi e i pannelli non vanno bene e la copertura non va bene invece Nadal ha detto ragazzi i soldi ci sono sono 160 milioni comprensivi dei 40 dati in più per quanto riguarda l'aumento del materiale dato dal governo Draghi il PNRR è rispettato i soldi ci sono a fine anno entro il 31 inizierà il bando quindi è questione di giorni per quanto riguarda l'aspetto commerciale perché non ha mai detto che verrà fatto l'aspetto commerciale con i soldi pubblici ci sarà il bando per chi vuole investire e lo stesso lo potrà fare anche la Fiorentina qualora voglia investire nella parte del commerciale lo potrà fare se non lo vorrà fare non lo farà ci mancherebbe altro quindi chi vorrà investire a livello commerciale chi ci vorrà mettere un ristorante un bar chi vorrà fare una zona parcheggi privatizzata non lo so potrà farlo quindi partirà il progetto dello stadio per quanto riguarda i pannelli non è un problema che non si possono mettere i pannelli c'è stata richiesta di mettere un tipo di pannello è tutto qua nel senso quindi i pannelli fotovoltaici ci saranno una sorta di copertura mini copertura ci sarà quindi è ovvio che si cerca sempre il perone l'uovo però Nardella è stato molto chiaro lo stadio si farà i tempi sono questi c'è il bando per il commerciale c'è ovviamente il progetto approvato qualche modifica ci può stare i soldi ci sono detto questo ragazzi io chiudo rifacendovi tanti auguri di buon Natale noi ci vediamo più avanti godetevi questi giorni ragazzi perché poi dal gennaio riparte la programmazione sul canale di Mr. Viola o Andrea Marino qual dir si voglia per quanto riguarda la Fiorentina un gennaio importantissimo una stagione importantissima la Fiorentina in corsa per l'Europa contro il Braga preliminare da vincere una squadra rafforzare un campionato da riprendere una Coppa Italia da onorare e provare a vincere sentila come te l'ho detta ragazzi buon Natale a tutti quanti in un clima natalizio ma sempre a tenta di ora ciao ragazzi e godetevele queste feste grazie grazie grazie